Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare La Notte dei Morti Viventi, un gioco di Zombicide, come potete leggere qui davanti. Gioco dell'Akmon, come tutti i giochi ovviamente di Zombicide, ed edizione italiana a cura dell'Asmo d'Italia. Io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione e è sempre un piacere e un onore immenso collaborare con voi. È un gioco molto interessante, è un gioco le cui meccaniche sono sempre bene o male le stesse, però con una piccola variante e si parla di un capolavoro. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. La Notte dei Morti Viventi, penso non abbia bisogno di nessuna presentazione, un capolavoro degli anni 60-70 di Giorgio Romero e è il film che tutti hanno definito, ma lo è realmente, capostipite e che ha rilanciato il Li Zombie. Un pochino nell'iconografia classica, appunto quella creata da Romero, comunque portata all'arrivalza da Romero e poi ha dato adito a tante altre creazioni futuristiche, come abbiamo visto, videogiochi, serie televisive, fumetti, videogiochi e quant'altro. Diciamo che questo, a livello di film e di storia, è un po' il padre di tutti i Li Zombie moderni. Infatti anche questa versione, in questo film di Romero, si ritrova il classico zombie lento, che qui non vengono chiamati zombie, ma Ghoul. È una cosa molto interessante, il nome vero e proprio zombie è nato successivamente, qui sono Ghoul. E per ucciderli c'è bisogno di sparargli un colpo in testa, quindi come si è ritrovata alla fin fine in The Walking Dead, si ritrova anche qui. Le regole, ve ne parlo successivamente dopo l'unboxing, ma c'è ben poco da dire. Fondamentalmente è sempre il solito Zombicide cooperativo, per quanto questo è un gioco fuori dalla linea di Zombicide che vedete qui dietro. Non è una campagna, non fa parte della stagione 1, è un gioco proprio a parte. Con le regole di Zombicide, che bene o male sono quelle, c'ha una piccola variante, qualcosa in più, ma noi in questo gioco ci vedremo rinchiusi dentro la solita abitazione e dovremo resistere, come avete visto nel film, agli assalti di questi Ghoul. Vabbè, Ghoul tra virgolette zombie, perché poi alla fin fine sono zombie. Ed è interessante perché avremo i personaggi in due varianti, varianti appunto Notte dei Morti Viventi, variante Romero, che rende il gioco un po' più difficile, un po' più survival, e variante Zombicide, dove ci buttiamo nel mezzo con una mitagliatrice e l'ammazziamo tutti, un po' come si è visto nei classici giochi, da una parte più survival, da una parte più action. Comunque vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confessione del gioco, guardate la mano, quindi veramente bella, grande, sempre come i giochi della Kmon, zeppa di contenuti, piena zeppa di miniature, infatti la Kmon è la nostra preferita. Mi è di mia moglie che fa sempre i giochi che quando li andate ad aprire pesano 18 kg. E vedete la classica locandina con il familiare e la bambina del film originale dell'anni 60-70, ricordo che è stato fatto un remake anche nell'anni 90. Comunque questa qui è la versione originale. Apriamo, regolamento di gioco, tra l'altro tradotto bene, senza errori, refusi e cose leggende, è il classico lavoro fatto benissimo da Asmode, e c'è da divinente. Come vedete non c'è da dire nient'altro, al solito segnalini ferita, segnalini in più, punti esperienza, barra del quando andate a sponare gli zombie, tra virgolette goal, equipaggiamento, scheda del personaggio double face, e poi i punti esperienza che potete mettere accanto. Quindi il regolamento è sempre lo stesso, linea di vista e tutto quanto, e c'è una regola particolare e molto bellina, che praticamente quando appaiono i familiari in gioco, che sono di solito la donna e la bambina che avete visto in copertina, quando appaiono i familiari, fino a che non vengono uccisi, tutti quanti i vostri eroi si mettono paura, e da versione Zombicide dovete girare la carta nella versione Romero, perché praticamente se sono messi paura e fino a che non li uccidete non riprenderanno, ancora una volta, a consapevolezza del loro potenziale. Il regolamento, ragazzi, è sempre lo stesso. Abbiamo le carte dei personaggi, vedete qui in versione tipo in bianco e nero, in versione Romero, che hanno molte meno abilità, come vedete praticamente ce n'hanno una al giallo, una all'arancione e una al rosso, e poi da questa parte invece è la versione Zombicide, dove a ogni passaggio di livello hanno un'abilità. Le classiche plancettine, qui non c'è nemmeno bisogno di farvi vedere più di tanto, tanto ragazzi il contenuto è sempre quello, molto bellino e con la scritta mi piace, tanto per diversificarle da tutti gli altri, però potreste usare anche quelli di un qualsiasi altro Zombicide. I mazzi di carte, che sono carte equipaggiamento, carte spawn dei mostri, dei gol e tutto quanto, basette colorate e poi abbiamo la scatola piena zeppa di miniature e i tile, ovviamente rigioco qua sotto, dove abbiamo i sopravvissuti grigi, come vi ho detto in versione Romero, quindi la stessa pedina c'è due volte, i sopravvissuti in versione Zombicide, tutti quanti gli zombie che non si diversificano per colore, tanto sono tutti uguali. Questa è proprio la variante zombie, non c'è il runner che si muove di due, ha due azioni, qui si muovono tutti di uno, l'unica differenza è che il grassone fa due punti ferite e ha bisogno di due punti ferite per essere ucciso. E poi i familiari. Praticamente quando queste due pedine fanno l'ingresso in gioco, tutti quanti i vostri sopravvissuti tornano in questa variante qui, e quindi dovete girare la carta dall'altra parte. Quando li uccidete, rigirate la carta ancora una volta e andate a risostituire le pedine. Sembra una cosa particolarmente macchinosa, ma va sicuro che si fa velocemente. Vi faccio vedere un po' come funziona. Il regolamento è sempre lo stesso. Non cambia niente, però occhio con la variante di Zombicide futuristica, futuristica, vabbè ambientata a tempi nostri, ma la futuristica ormai sarebbe l'Invader. E le pedine, come poi vi ho fatto vedere durante l'unboxing, ci sono sia in variante normale, di colore grigio, io sto guardando qui dietro la scatola, che in variante Zombicide, che sono di colore marroncino normale, perché l'unica regola un pochino più particolare del gioco è quella che noi partiamo all'inizio con le pedine che sono comuni esseri umani di tutti i giorni che si ritrovano nel mezzo di questa apocalisse zombie rinchiusi dentro questa casa e asserragliati da tutte le parti e poi piano piano ci sono delle regole particolari tipo trovano oggetto, ammazzano zombie particolare, trovano oggetto e passano un altro personaggio che ci faranno sbloccare la modalità Zombicide. La carta è una double fuss. Ti prendi la carta del personaggio, da una parte è Romero e da quell'altra parte è la carta versione Zombicide. Quindi quando i personaggi acquisteranno coraggio, mettiamola così, consapevolezza delle loro azioni, diventeranno un pochino più forti e avranno più abilità speciali, avranno più cose, insomma, saranno molto più prestanti. In più potranno andare a pescare da tutti i mazzi di oggetti, perché fino a che il personaggio è versione Romero può pescare soltanto dal mazzo oggetti casalingo, quindi padelle, la gamba di un tavolo, sì, magari anche una doppietta, però non armi troppo potenti. Girandolo dalla variante Zombicide invece potranno pescare da tutti i mazzi di loot. Il regolamento è sempre lo stesso, quando si va a sparare non si spara un bersaglio ma si spara in una zona, quindi sparando in una zona c'è da andare a vedere il discorso della priorità del bersaglio. Prima si spara il grassone che ha due punti ferita e poi si spara gli zombie che hanno una ferita, perché quello grosso prende colpi, li assorbi, facendo scudo dagli altri. Alcuni missioni ti chiedono di barricare delle porte, di barricare delle finestre. Ecco, questo, a differenza degli altri Zombicide, è più... prendetelo fra virgolette, che non lo è, comunque per farvi capire più velocemente, è una specie di tower defense. Addirittura, la prima missione di introduzione tutorial ci dice di barricare tutte quante le finestre per vincere la partita, per passare alla missione successiva. Quindi c'è molto più il discorso di andare a barricare e gli zombie, nemmeno il grassone, le possono sfondare. A parte che venga pescata una carta particolare che dice che tutte quante, magari le barricate, con degli zombie davanti sono saltate. Ci sono degli zombie goal particolari che, come avete visto nel film, possono usare armi, un po' come se più che zombie fossero uomini impazziti, e loro magari possono andare con mazze di legno, cose del genere, o anche piedi di porco, a staccare via le assi di una copertura, quindi rimuovere la barriera ed entrare. Zombie che in questa versione possono entrare dalla porta, dalle porte, o dalle finestre, quindi possono sciamare anche da dentro le finestre un po' nel buon stile Resident Evil. Ragazzi, il regolamento poi fondamentalmente è sempre lo stesso, quindi leggetelo perché vi dà qualche piccola aggiunta ai veicoli come funzionano, sempre uguale a zombie, sai, le tiri i dadi per vedere chi ci rimane sotto, chi ammazzi, quando vai a tirare a un bersaglio, non tanto un bersaglio, a una zona, tutti i colpi che vanno a mancare e colpiscono altri sopravvissuti che sono in quella zona, zombie, zombie side, uguale, spiccicata, quindi non cambia niente. In conclusione, questo gioco è, come vi ho detto finora, è il classico zombie side con una variante, io l'ho apprezzata, vi dico la verità, parecchio più survival che dura quello che deve durare perché è normale come in The Walking Dead per farvi un esempio, prima stagione tutti avvano pure delle zombie, nella seconda avevano un po' meno paura, dalla terza in poi sono diventati tutti dei piccoli mission o deri, il cacciatore di zombie, è normale, quando li vedi e li combatti tutti i giorni diventa un po' come schiacciare una formica per strada, cioè la fin fine non ti fa nemmeno più paura e qui uguale, parti come cittadino normale che deve riuscire a fare qualcosa, qualcosa che ovviamente tirerà sempre la missione che ne so, ammazza un grassone per prendere consapevolezza e a quel punto diventi un po' il classico eroe che mira a sopravvivere ad un'ambientazione del genere ed è molto interessante e per me e mia moglie per quanto forse la mia ammettazione preferita è sempre la fantascienza e lo sci-fi quindi la mia ammettazione preferita non ci piove è invader però a livello di zombie visto che un gioco a parte non ha espansioni non ha season 2 è un film voi andate a giocare è il film forse è quello che mi piace di più perché lo vedo un prodotto più compatto una scatola che aprite e giocate non è come gli altri zombie side che sono spettacolo però che puoi mettere i tile del negozio i tile della strada farti mappe come ti pare a te oppure i tile del centro commerciale potete creare una città se avete tutte le espansioni e ci potete mettere 8 zombie differenti quelli che prendono fuoco i grassoni i runner qui no qui avete una scatola che non ha espansione non ha cose particolari e quando andate ad aprirla tutto l'occorrente per giocare è qui cioè non potete usare altre cose di zombie side qui dentro anche perché andate a rovinare l'avventura quindi mi piace molto la trasposizione del firma la notte dei morti viventi qui riprodotta veramente da paure e penso che il romero ne sarebbe veramente contentissimo quindi passate a pieni voti io ringrazio l'asmo di italia per averci offerto questa copia di recensione grazie ragazzi è un piacere disumano come vi dico sempre collaborare con voi dopo due anni che andiamo avanti se lo volete acquistare da Get Your Fun primo link in descrizione e in sovraimpressione al miglior prezzo sul mercato ce l'hanno ma se il prodotto deve essere finito o non si sa perché mai rimosso dalla lista non penso contattatele con una mail al supporto e ditele guardate arrivo dal canale di Coridan si può avere ve lo faranno avere non scontato non vi fanno lo sconto se dite che è arrivato nel mio canale ma ve lo faranno avere comunque il miglior prezzo competitivo sul mercato non lo volete pagare tutto insieme lo potete pagare in tre rate senza alcun finanziamento quindi andateci a dare un'occhiata e fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima ciao